Ingenti risorse sono investite anche nella ricerca e nell'implemento di fonti energetiche a basso impatto ambientale. A Amanur abbiamo scelto di utilizzare le energie rinnovabili. Questa scelta significa riuscire a trovare delle soluzioni ecologicamente ed economicamente convenienti. Le tecnologie che utilizziamo vanno dal fotovoltaico, solare termico, biomassa, cioè la legna che ricaviamo dalla pulizia e dalla cura dei nostri boschi, ha soluzioni anche più spinte tecnologicamente come la geotermia che sfrutta il calore del terreno, la cogenerazione che è un utilizzo intelligente delle fonti tradizionali fossili. Il risultato più importante raggiunto è la constatazione pratica che queste energie funzionano e sono alla portata di tutti. Il nostro esperimento è riproducibile e questo ci sembra una vittoria. La ricerca ad Amanur è molto importante, viene sviluppata su fronti differenti nell'ambito della biologia molecolare per quanto riguarda le analisi cliniche, le analisi ambientali, vengono effettuate coltivazioni idroponiche, quindi in acqua e aeroponiche in presenza di CO2 e sostanze nutritive. E poi vengono anche effettuate studi per coltivazione di alghe allo scopo di produrre idrogeno.